Inizio Marchioni, quanto basta? Ma è vero che il mondo ha più bisogno di un perfetto spaghetto al pomodoro, piuttosto che di un branzino al cioccolato? Ovviamente una metafora, insomma. Penso che il mondo abbia bisogno di cose semplici, questo sì. Penso che sia anche la metafora di cercare, di una necessità di recuperare anche un po' di rapporti un po' più semplici, diretti e anche di accettare un po' meglio la diversità con semplicità e con apertura, insomma. Visto i temi del film, la storia di amicizia che racconta questo film tra un cuoco con la testa molto calda, che sarei io, e il personaggio di Guido interpretato da Luigi Fedele, che è un ragazzo con la sindrome di Asperger. In realtà all'inizio del film sembra che sia io che do una mano a lui, ma poi in realtà andando vedendo, iniziando questa amicizia, alla fine del film forse si capisce che chi, i presunti normali forse, hanno più necessità di un confronto e di una frequentazione con il mondo della cosiddetta diversità, per imparare qualcosa. Lavorandoci, perché noi abbiamo lavorato realmente qualche giorno, insomma sei giorni, con questo gruppo di ragazzi con la sindrome Asperger, ed è incredibile perché loro non hanno nessun tipo di filtro, ognuno ha la propria fissazione, chiamiamola così, e sono straordinari, perché poi in realtà quello che ho capito io personalmente è che siamo tutti quanti con la sindrome di Asperger. Solo che noi, normali, tra dieci milioni di virgolette, per quieto vivere abbiamo trovato ognuno il proprio equilibrio. Loro se ne fregano e ovviamente con tutte le difficoltà delle loro esistenze, però hanno un modo di sentire, un modo di rapportarsi veramente meraviglioso. Tra citazioni dal film, tu ci credi alla legge dei grandi numeri? Cioè una persona che ha fatto tante cazzate, prima o poi una cosa buona la deve fare nella vita? Ma anche per sbaglio sì, cioè nel senso anche per il calcolo delle probabilità, questo è anche un film sul fatto che nella vita veramente non si può mai dire mai. Ovviamente si tratta questo tema con grande leggerezza perché è una commedia, però è un tema molto grande questo, nel senso che leggendo i social, frequentandoli, mi rendo conto che c'è un senso di grande disillusione nella maggior parte delle persone, mentre invece veramente nella vita non si può mai dire mai. Bisogna solo forse mantenersi più aperti possibile ad un incontro, ad una qualsiasi tipo di possibilità.